Mondial a ECMA 2019 è ancora concentrata sulle piccole cilindrate. La filosofia della casa di Meda punta sulla produzione di moto di alta qualità caratterizzate da un design molto particolare, una filosofia che sembra essere apprezzata dal mercato. Il nostro concetto di design riprende un po' quelli che erano gli stilemi di Mondial in alcuni punti caratteristici. Noi ovviamente portiamo questi stilemi con della tecnologia moderna, quindi andiamo a creare delle moto particolari, emozionali che hanno uno stile tutto suo e che comunque sono assolutamente uniche diciamo nello stile. La novità si chiama Flat Track, motto che punta senza mezzi termini a un pubblico giovane. Ma nel futuro Mondial pensa anche al tema dell'elettrico, affrontato però in modo più molto originale. L'elettrica è un'altra nostra interpretazione, quindi al momento abbiamo inserito una Power Unit elettrica all'interno della nostra motocicletta Pagani. La Power Unit è particolare, non è il solito motore elettrico con una batteria infiato dentro in un oggetto ma è qualcosa di diverso. La moto mantiene il cambio, mantiene la frizione, è un motore particolare inserito in un carter con il raffreddamento ad olio. È una diversa interpretazione, voglio dire non abbiamo voluto elettrificare un oggetto, è una moto che mantiene le caratteristiche della moto, quindi quando la guidi ti dà delle emozioni in più come tutte le nostre altre moto. Quindi al cambio produce un fischio caratteristico degli ingranaggi che girano che ti danno l'idea di avere un motore che prende i giri, quindi continua a darti delle emozioni da moto che normalmente un prodotto elettrico non ti dà.